L'oroscopo di marzo 2021 i segni di fuoco e partiamo con l'ariete. Inizia un periodo spumeggiante, stimolante, pieno di voglia di vivere, di fare. È il momento di riprendere quelle situazioni addormentate messe da parte in attesa di soluzione. La seconda parte del mese per l'ingresso di venere nel segno dell'ariete vi consentirà di intraprendere nuove conoscenze e chiarire relazioni stanche e appesantite. Il leone. Il passaggio di Marte dal toro ai gemelli sarà un momento particolarmente importante per i leoni. Renderà il vostro quotidiano divertente, pieno di sorprese. Sarete coinvolti e coinvolgenti. Vi senterete vivi, vitali, pieni di energia. Una voglia matta di mettersi in gioco, di essere al centro delle attenzioni. Sagittario. Con Marte in opposizione, il rischio di incomprensioni, di polemiche è fortissimo. Date modo alla vostra onestà intellettuale di impedire discussioni dannose per voi e per chi vi sta accanto, sia in amore che nel settore lavorativo. La parte finale del mese sarà più tranquilla, frivola, con tanta voglia di fare.